La riduzione dei reati, i dati che riguardano i reati commessi, i reati denunciati, le forze di polizia in provincia di Elicenico, sono dati musighieri che mi fanno veramente essere orgoglioso del lavoro fatto. Mi rendo conto che tra i dati che segnano una riduzione dei reati, in tutti i tipi dei reati, lo vedrete dai dati che vi forniremo. Mi rendo conto che a volte la percezione è diversa rispetto alla realtà. Mi rendo conto che la cittadinanza si preoccupa giustamente dei reati che vengono commessi, soprattutto dei reati che hanno una un impatto sociale che viene avanti, mi riferisco a quelli predatori, ai reati furti, rapini, eccetera. Però i dati che parlano chiaramente, ci dicono che i dati che tutti i reati sono l'inizio. Grazie.